armata armata amata inizio sorda ma non esplosia lucia che succede a notti chi ti ha fatto del male? mi sono sparato addosso per un attimo le munizioni allora prendo il mic perchè avevo promesso a Laura che gli hanno riflettuto prendi la munizione non ci credo hanno diminuito le munizioni di questo prima erano 12 caricatori, sono 26 di questo lo vivo si certo ma anche fatto bene 12 sono un po' troppi Anche per l'arma primaria che uso io Prima c'erano 6 caricatori, ora ce ne sono 3 Quando mai ho usato anche 2 caricatori dell'altra arma? Soltanto in situazioni bruttissime nella fine I'm comic bro comunque No, mi ha asciuttato E' bello, sei in una situazione un po' del calcio Dai Leo, vengo ad aiutarti se riesco Come non detto Ah no, ma ero già qua Ok, grazie Arrivo Ok, 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 non è sempre di giudicato Ma è pieno di gente Porca boia se fio di gente è un video Si, ho 15 fps, è già tanto che riesco a capirci qualcosa Ok Su, su, giù, su, prendi i tasti No, 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 c'è l'altro Ok Ma non ha quanto casino Ho già qua Arlanca Che che vacca 3 uova Vacca una Vacca un uovo Oh, ma che uovo Prego Grazie Bravi Qui c'è? Ehi Un tiziano Dov'è? Un tiziano E' morto Lo sento da qua Mentre Sì, la mia è molto più potente Sono molto soddisfatto Oh, mazza Che bello fa lo spawn Verso le stelle Ok, allora Ok No, non l'ho neanche fatto fortissimo Sei pazzo vecchio Sei pazzo vecchio Amico Come si? Amico un cavolo Come il compagno di classe albanese Mi sta facendo esplodere State attenti a non farmi esplodere In quelle balestre del cavolo Mattia Ok Poi pure esplosiva Quindi è ancora peggio Ma prendo Che pesco? Perché stavo prendendo fuoco Per un po' di tempo? Prendi i rifornimenti Prendi i rifornimenti Prendi i rifornimenti Sì, sì 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 Oh Ma dai Non è vero che ti tiro un coppino Oh Anzi, è un patolo Anche saliti Spera No No, ma non ti ho fatto niente Con un pugno hai fatto un volo di No Sto sanguinando Basta, basta Ci impari Ok Guarda che se mi fai cadere O questa è in mano Attenzione Tinovi un pugno Dai Ok Prendi i campioni che trovi Tu eri più vicino al coso Rispetto a me Mi sono fatto male io Quindi per quel motivo Non ho fatto cadere C'è radio C'è radio Sì C'è radio C'è radio C'è radio in safety C'è radio in safety What? 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 Provato qualcosa C'è radio in safety Una bomba C'è radio in safety C'è radio in safety Ma Paolo è arrivato Ma Paolo è arrivato? Eh Quello è un nido di insetti volanti No, era il fungo delle spore Perfetto Finalmente volevano No, non è il fungo È un piccolo problema Dica Che ci sono i cannoni? C'è radio in safety 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 E' quello che dice La confazionata d'acciaio Su Tu follow 4 Esatto Vabbè Quindi È sembra della filografia Prima la mission Poi Sparta un colpo Paolo comunque Porto buone novelle Vada Eh Boh ci siamo visti sabato E' tutto ok Praticamente abbiamo risolto Un fortio di roba Penso quasi tutto Cioè quasi tutto Sulle cose Il comportamento Questa settimana Non è tutto il resto Quindi Grazie per tutto E grazie per avermi impedito Di far calmato Sti giorni Perché Ero molto vicino Perfetto Devi La cosa migliore E' perché di mantenere la calma Anche quando Troppo La calma va No E' un piccolo problema Ed è quella la grande forza Rax è scorreggiato Dio santo Come fa un cane Esco reggiatto E' un piccolo E' un piccolo Guarda che i cani scorreggiati E' un fatti Cioè Per me è stato un Per me è stato un casino Peste dio caro, che è? Cosa che ti ha fatto? Cosa che lei sta spuza? Che bravo che sei messo a farmi la guardia Ma sei bravissimo sei, sei un grande No, non vuole la papa, altro che guardia, Dio No ragazzi, Falou Shatter mi chiama Ce l'hai nella play Falou Shatter? Eccomi qua No, Mattia, Mattia, Mattia Ma? Colpito Ok Gì, quella merda di vomitabila ha rotto il cazzo No Morto Ma dai, ma ero anche shaltato, mi ha shottato No, penso che tu sia saltato dopo essere morto Comunque, sto favo 4, ho messo la moto un po' su Cosa hai messo? La mod sus? Su Falou 4 ho messo delle mod plus sus nel senso che Hanno un po' rotto il gioco anche perchè su PS5 C'è qualche problema Quali? No, no, Paolo E allora il problema c'è anche su computer Quando ho fatto quell'aggiornamento modo Che è per ottimizzare il gioco tantissime mod vanno di merda Praticamente i modder devono star là a riprogrammarle Di fatti anche quella per esempio No, poi lui ho detto che avevo letto questa cosa Sì ma Ma in questo caso è successo Ma ora che era peggio Perché Ma comunque che ho pensato che ho pensato che i PS5 sono meno dei PS5 Staccaverso Diciamo che comunque è un po' diverso Però funzionano, in quel modo funzionano Diciamo che Ura Quella che aggiunge più zezzi bugga un po' tutto Funziona Ma bugga Fa un casino Sì e purtroppo Per cortesia dietro di te Però No, no, mi hanno suonato No, 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 no Arma scarica Chi è che mi ha eliminato? LEONARDO Ah c'è un po' io Però il bug è peggiore Ah è Mattia che è morto Che è proprio Che avrebbe un bug Ma È una cosa che Non concede più Con... Ecco Realmente Non ha soldi Entra, entra Cioè entro, entro Ma che cosa? Ma perché non riesci a entrare nella partita? Russi omofobici della EA Che ti invito? Succede Succede Dite ciao alla democrazia Eh ma è l'EA E lei che è interpellito Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Dio Dio quanta pazienza Stai Mi chiamavano Paolo mi sono messo online se vuoi Si appena un tratto Altre su, tu arrivano Pensa ce l'ho fatta anche senza il tuo aiuto Tra poco Tra poco dobbiamo fare la missione nuova Ricarico Qualcuno è esploso Cora di disattivare la torre degli insetti Sai che gli off degli insetti hanno iniziato a A aumentare il numero Grazie Sembra che qualcuno stia esplodendo A causa delle mie granate E come si può adesso? Sembra che qualcuno Mi sa che qualcuno C'è il cavolo mio 64 Punto di spada Comunque qua ci sono i campioni Giù in fondo qua Ok, ne ho rifornimenti se vuoi Se ti serve Ah Mattia c'è il cavolo Scusate che qua C'è il coso C'è il... Il garage Dove sono i campioni Dove sono i campioni? Eh su di poco Ho aperto nel capolavoro Eh Capolavoro Cosa ho preso? L'ar... 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 Ero sorta Goto No, Mattia... Mattia c'è una cosa incredibile La mia posizione E' la prima volta Che cado con le armi giuste Senza ve le guardate Goto Incredibile È da festeggiare Schiatta Schiatta Ok Lancia granata Su Ragazzi Daaaah Dio poi Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Vado all'antemare a recuperarmi la mia roba Andar con lontano I campioni rimasti indietro Donne, è arrivato Oh, hello, do you hear me, hello Sì, arrivo Do you, do you, do you Date la visione principale Do you want this, this weapon? No, no, tranquillo, devo farvi vedere a questi insetti Come si ragiona Con questi Nice Ah, il lanciafiamme Mi piace Oh, no Bellissimo, lanciafiamme Porco, schiga, no, poichino Uno spallo Un po' bello l'effetto di poco Alla nostra la destra Cattu E mi perché non si fa male un po' fuori con le cazze Oh, bravo, finalmente l'ha preso Cos'è, anche tu hai un'altezza incredibile per prendere i campioni Ma bello che anche da cazzo le cavo lan per il mio l'altezza Ma non è il problema tu, il problema è Non penso L'anzefiamme 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 Oh, no, no, no Guarda come bruciano Che omofobi Casomai siamo amori omofobi Oh, laggiù c'è un fungone laggiù Fungone, e non so se è quello di quelli volanti Sì Ah, Mattia c'è un altro garage qua Paolo, vieni tu che sei più vicino a me Più piano Che arrivo io Ok Ok Ho bruciato un po' di froci L'anzefiamme Aspetta, aspetta Leo Oh, grazie Prego Ho già lanciato Oh, come l'hai detto Che non c'è l'anzefiamme Che non c'è l'anzefiamme Ho bruciato un po' di froci 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 Ma l'hai fatto troppo presto Che cosa è? Mi cambiato il colonnello Il colonnello Umbaranza No, 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 no No, no, no Ma brutta Ma le due Vecchio Poi mi chiamiamo di libertà ragazzi Dio bello, sordi Tra cui Cos'è che ha trovato? Non posso andare Ah, questo è il solito posto in cui il tipo scrive Eh, mi dispiace c'erano rifornimenti e li ho presi io Oh, c'è Bombone nel nido, eh Occhio Ok, buco dentro Vado Merda Tiziano Ok, vado Ok, vado Oh Stupido Tiziano Segui Leo Così ti sparo Niente Mi stanno attaccato C'è successo? State per me Non è un problema Non è un problema Ok, ok Arriva sul porto il morale Vi do una mano io, signori Oh, grazie Grazie soldato Sper che usano meccan No, grazie come bello Se non è meglio Se non è meglio se le chiami uno a dash e uno dopo l'estrazione Abbiamo 20 minuti Scusa, non vado a colpirvi Dove sta qui? Forse mi sono colpito da solo Cosa sta colpito? È così confuso da colpirsi da solo Un altro uova Abbiamo fatto Probabilmente perché mi sono la conmagata addosso Ah Raga due uova Due uova Due uova Venti e fatti Bravo Mattia ha sbattuto le uova E ora di fare una bella piccata Sì 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 Non c'è un sapone Stai vicino Stai a vedere Ah E' un pepe Porca puttana No 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 Io scappo Tutti piano Tutti piano Tutti piano Non ho un carico di coro Dove è? Dove è? Ma quello è un bestione Il condoro Il professore Di fisica Ma che Lui è tornato Marson Marson Esatto E poi il cristale aveva anche dei muscoli importanti quelli Ecco mi sono suicidato Sì quello lì è devastante È devastante Sì Si è debbaccato la zampa Leonardo sta laggando Adesso questo mi segue Perché mi è arrivato E' mio attimo Mattia vedo lì Oh cazzo Mattia vedo lì Ho venuto Non mi è mai E' un tiziano No E' un tiziano E' vivo E' mi ha distrutto Si Lui ce l'avrebbe No è morto Oh perfetto Cavolo ho lasciato l'attacco Un po' troppo torto Ah vabbè Un po' troppo torto E' già un attimo Ah comunque mancano due nidi ancora Uno qua Allora anche Tre ne mancano Uno in fondo Ma quello facciamo le frazioni Ok E questo qua sopra Sì Sì esatto Andiamo a nord dai Devo vieni con me Sì dammi un attimo che controllo si sia un campione Ma che sono curioso Ok Guarda 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 Trovo a gente qua Guarda 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 Mi servirebbe a rifodri Sì Sì Hai ragione Sì Guarda Io vi aspetto Io vi aspetto qua a nord ragazzi Sono vicino al primo nido qua Ok Sto arrivando Anche Anche quel disastro poco ottimizzato di Assassin's Creed Dory Jim si riesce a toccare i 40 fps senza problemi Questo gioco era ottimizzato molto di più al lancio Non so che diavolo abbiano combinato Merda Merda Avevo 12 campioni In anima un po' più vicino a me Ok Perché lì vedo che c'è un casino incredibile Ok Dentro la dei nidi Cioè C'è la dei nidi che dobbiamo chiudere? Sì Mattia ci pensiamo Aspetta ci pensiamo Fatto Ma come l'ho detto che chiaro l'ho colpito Granata Tu sei pericoloso Te l'ho detto io Chi è che pericoloso? Tu Quel bombardamento Pericoloso Che cavolo è successo? Si ma hai visto quanto è chi l'ha fatto? Aia C'è la Maranza che gli attacchiamo Mi ha sparato via Eh lo so Mi ha appena colpito Mi ha colpito Aia Basta Pronto Porca Dovevo stare attento Già 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 non ci capisco niente perché ho 13 fps Della serie Una presentazione power point è più fluida Ma parla su questi mortai Sì aspetta che te lo ammazzo il Maranza che spara C'è il Goddard Mi senti Oh Porca No Ok ci conviene estrarci Si Ci conviene estrarci Assolutamente Ma questa faccenda scusami alla fine Andiamo a recuperare i campioni Ok Recuperare i campioni Merda Io sono qua Vado io Dov'è che sono? Eh Sono dentro al nido Facciamo una cosa Adesso mollo Adesso 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 Mollo un esoscheletro Ok 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 vai vai Chiamalo Io cerco di andare dentro Dentro al nido Dai 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 SALI SALI Non riesco a uccidere adesso Non ho colpi Ragazzi Perché se deve fare lì scappata da quella zona Deve recuperare i campioni Al Robo Ah ok Sì ma campioni Ne aveva un bel po' Ma hai presi tutti Leo Bravo bravo Corri 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 Sì perché poi non abbiamo 13 rari E 15 comuni No no fate bene Scappali scappa Io ammazzo quello che sta Vieni Leo ti aiuto io Segui me C'è un'incastrato Perfetto Andiamo verso l'estrazione Facciamo il nido sotto Paolo è sull'altro E poi aspettiamo Paolo e chiamiamo l'estrazione Ok 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 Qualcuno ha bisogno di uno scudo? Eh no grazie Perché sei andato? Perché sei andato? Scusa Siamo andando all'estrazione noi Ah ok Paolo Perché sei andato all'estrazione E' super negra No Oh no Ho sentito la hand Ti aspettiamo l'estrazione Super negra La notte Anzi Gabriele vai con Paolo Vai con Paolo Guarda io sono già arrivato Qualcuno mi ha danneggiato il McWatt Forse mi ha danneggiato il McWatt Forse mi ha danneggiato il McWatt Abbiamo 22 secondi Ce l'ho fatto ragazzi Sì Ma sei morto? Eh sì perché ti avevo lanciato un Trovate qualcosa Vabbè lancia fiamme sopra Andiamo vai Allora Allora Fate una cosa Puoi rinannatelo che io Vado di attendere il campion Ok Non avevo Non avevo Non avevo Non avevo Non avevo Ottimizzato Il metodo alternativo Fate una cosa È epico Rianimatelo da voi Io adesso Vado a premere i suoi campioni Sì sì l'ho già rianimato io Ok Nice Io chiamo i rifornimenti qua eh Anni ho finalmente risolto il problema Che quando Ti guardi intorno con la minimappa Su Su computer Spari con il McWatt Non lo fa più Finalmente Comunque C'era questa che non serviva un cazzo adesso Dio caro Cosa? C'era questa che Dio caro potevamo vederla prima Forca troia che è stata una madre Molto utile Vabbè è sempre l'ultimo quello lì La cosa è quella No è l'artiglieria No è l'artiglieria No è l'artiglieria No è l'artiglieria Vabbè attivatela Vabbè attivatela Sicuramente ho il mio qualcosa Sotto le missioni Perché sono 1,2,3,4 Dio bello Eh sì quattro sono Sì sì Inviate un eagle Inviate un eagle Qua c'è un rifornimento Siamo una posizione S Perché invece che elaborò a 60 fps Ci saranno un fps Cioè ci saranno fotogrammi Molto ripetuti Sto arrivando da voi Sto arrivando da voi Cerco di evitarmi di questi progetti Hai una sentinela pronta per caso notchietta eh? No un minuto No arriva l'altra Ho preso il campione Viva Quanti cazzo ce ne sono Avete il gruppo di nemici che stanno arrivando qui non posso Eh ho visto Vi mi ha dato il bombardamento Ok grazie Forza Sono qui Forza Meccanico No No Chiedo degli importi Ehm Reanimatemi da voi Al diavolo Tanto 3 campioni con noi In quanto pare Non devo avere la pena Vabbè vabbè oh Non ricordo Che figo Facciamo l'estrazione E via Fogliamo il troppo Perché ovviamente l'acido Lo distrugge in 3 secondi Il meccanico Così Perché boh Physics Physics guys Come nel primo Ah si come nel primo Nel primo boh Il lato della Il lato della Mamma mia Quindi Ci sono due malattie Non ci sono più Sì 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 meglio Io mi ho porto in alza Ok E muori Questo lo metto qui in caso arrivi in bestione Ok Ok Diretta è un po' di gente Vado a prendere Gabriel Come sei messo? No no arrivo Avevo Tutto sotto controllo Ok Dietro di noi Di qua Va bene cacchio Dove... Assurdo Dalla parte in cui non dovevano arrivare E' un bello che ti vedo Ma dov'è L? Poi vedo una montagna E vedo lui che ha fatto la forza Ah è vero Con cecchino Con cecchino E' un dato di fallo Bellissimo 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 Che cecchino Quello non è che accorto io Io L'1 No adesso guardavo perchè adesso ho fatto un bombardamento Voi dove sei? Dio mio Anche il mio PC invece che piace più Niente Ok di qua è chiaramente pacchetto L'altro granata L'orica Che vizę St a faremo nello Che c**** questa granata ha esploso tu Ciao Mi diluente un po' di quanto Di 27 metri Ok non dischi P לכè Si pieno in questo problema Mi vinti Vabbè 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 Matteo mancherà solamente 10 secondi Devi resistire Con il dato Sì, sì, resisterò, resisterò a soldati e a su qualche modo Ma le viste bocca ma anche il vlogger, ma per terra No, quasi una cosa, no, what the fuck Paolo, 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 prendi il campione raro che ho per terra Preso, sono morto, ho preso a fuoco Ok, si, si, si Vai, ma che sei ripponato, si, ok, grazie Via dentro Vai, 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 vai Se portiamo a casa tutti quei campioni, godo Sì, sì Bella partita, bella partita, godo Noice Io vado a mangiare adesso Buon pranzo e buona cena Aspetto la fine dei tre, mi puoi esco Buona colazione a tutti Buon pranzo Mattia Grazie mille, farò un brunch, farò un brunch coi fiocchi Abbiamo fatto tutto, che incredibile Di bastante, questa missione è stata già in generale Fantastico Ci arrivo Assurdo Signori Signore Signore Adesso Adesso C'è che non lo intio adesso Io vado Sì grazie a tutti